Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi, veniamo da una puntata molto, come dire, nervosa da parte mia quindi bisogna cercare di calmarsi un attimino è passato qualche giorno rispetto alla scorsa puntata quindi sicuramente sono più calmo rispetto alla puntata che avete visto ieri comunque ragazzi, quest'oggi che cosa faremo? Andremo ad affrontarci Napoli e Sporting Lisbona quindi concluderemo il mese di novembre e ci affronteremo la prima partita del mese di dicembre contro Lellas Verona Ma come al solito raga, prima di incominciare a giocare vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram il link del profilo è come sempre in descrizione e anche a supportare e sostenere il canale tramite una donazione grazie al link che è sempre in descrizione detto ciao ragazzi, possiamo scendere subito in campo contro il Napoli ci sono dei cambi di formazione perché abbiamo un mix per titolare e sostituti visto l'esito della scorsa puntata e quindi alla fine è uscito fuori una formazione con Ocoglio Frepali, poi in Capie, Vitis, Calvini e Ranci in difesa centrocampo con Coppainers, Matazzo, Guller e Sharawi che è sceso a 79, era diventato 80 ma ormai 32 anni iniziano a farsi sentire e la punta è Facundo Farias e sulla destra abbiamo il solito Fatavisagù c'è ragazzi a Napoli che è campione d'Italia in carica in questa carriera anche se quest'anno sono momentaneamente undicesimi in classifica quindi ben lontani dalla vetta che è occupata ma anche a farlo apposta da noi insieme all'Inter comunque hanno un'ottima formazione con Ocoglio Reca in punta centrale e Cholis sulla destra quindi vabbè la solita formazione che stiamo affrontando in questi anni e anche ragazzi che possiamo subito provare a avanzare addirittura con Orange che si fa quasi tutti i campi e c'è se vede a Facundo Farias che si gira alla grande Facundo arriva subito il gol del vantaggio partenza sprint da parte del nostro Genova che la sblocca dal sesto minuto grazie alla stoccata di Facundo Farias ma complimenti a Orange che è partito praticamente dalla difesa ha trovato lo spazio, giustamente lui si è inserito e poi ha andato a servire Facundo Farias che col mancino non poteva sbagliare questi qua sono proprio i suoi gol e occhio Farone Sciaravi può avanzare prova ad alzare attenzione la palla è buona verso Facundo Farias che la mette a terra e calcia ancora col mancino mamma mia Facundo Farias che partita che sta giocando appena 10 minuti e già siamo sul 2-0 doppietta per i bomber argentino ma è veramente incredibile ragazzi la difesa del Napoli devo dire che lascia abbastanza a desiderare forse è una di quelle partite dove dobbiamo vincere per così dire comunque ragazzi sta di fatto che arriva il 2-0 partita in discesa per noi e faccio che possiamo ancora ripartire Facundo Farias allarga molto bene verso Fatavis Saku faccio a farone Sciaravi dentro Fatavis Saku la mette dentro per il Sciaravi che deve semplicemente appoggiarla mi ha tirato addirittura di prima intenzione quindi è proprio la partita giusta la partita dove anche FIFA ci fa giocare 3-0 per noi clamoroso al Maradona devo dire che era inaspettato perché comunque contro il Napoli l'anno scorso se non sbaglio abbiamo sempre perso comunque al massimo abbiamo pareggiato sicuramente non abbiamo mai vinto con loro e quest'oggi sembra proprio che la cosa stia cambiando ma c'è ragazzi che arriva il gol del Napoli che inevitabilmente riapre la partita primo tiro in porta della squadra azzurra segna Carlson con questo mancino praticamente imparabile però poi occhio fuori gioco no ragazzi è tutto regolare addirittura arriva la doppietta lampo da parte di Carlson improvvisamente si è riaperta la partita almeno diciamo in certo senso c'è più gusto però è comunque abbastanza insensato due tiri del Napoli due gol va bene ragazzi improvviso blackout da parte nostra adesso gioca solamente il Napoli Viti la mette via di testa Ardaculler possiamo provare a ripartire con Facundo Farias che allarga verso Fatavisagù faccio che sembra buona Fatavisagù può andare è una partita veramente strana l'appoggio no non ci credo non ci arriva Isharawi no qui ci siamo mangiati i gol del 4 a 2 la possibilità di andare all'intervallo con un doppio vantaggio è peccato ragazzi a fine primo tempo 3 a 2 Genova all'intervallo era un netto 3 a 0 ma adesso il Napoli è tornato completamente in partita sicuramente questo ci farà stare più attenti però allo stesso tempo non sono per nulla soddisfatto della fase difensiva anzi per nulla ormai è sempre più disastrosa faccio ragazzi si riparte Fatavisagù deve correre Fatavisagù bravissimo va infilati infilati Fatavu infilati va tu direttamente in porta Fatavu 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 che cosa aveva fatto qui però poi sul tiro becca in pieno Ignacio niente non vanno sui giocatori arriva ovviamente gol del pareggio 3 a 3 per il Napoli segna guarda schera dovrebbe essere questo qui 77 comunque raga è assurdo sono andato pure sul giocatore per provare a fare il contrasto però vedete lì cioè me li liscia non so che altro fare perché più di questo cioè boh comunque ragazzi assolutamente i cambi 5 sostituzioni questa partita sinceramente per come si è messa la voglio vincere a tutti i costi in campo Saivalde Scott a centrocampo in attacco Nusa Shashua e Luca Romero come al solito proviamo a sfruttare il fattore freschezza per così dire e ragazzi Scott buona la parola dentro per Luca Romero attenzione Romero dietro dietro Shashua prova a calciare giustamente sul primo palo di prima intenzione ma ha calciato di prima commovente ma arriva il miracolo del portiere ragazzi Scott dentro attenzione Samuel il sinistro di Shashua attenzione la respinta Luca Romero dimmi che non è fuori gioco è tutto buono 4-3 torniamo finalmente in vantaggio sarei impazzito se non avessimo vinto questa partita ma occhio ragazzi che ancora è estremamente lunga segna Luca Romero 4-3 dopo la clamorosa rimonta del Napoli arriva questo gol di Luca dopo diciamo una bruttissima respinta da parte del portiere respinta che io definirei scriptata perché il pallone è andato esattamente sui piedi del nostro giocatore avrei detto esattamente la stessa cosa se avessi subito gol anzi soprattutto se avessi subito gol quindi diciamo è giusto dire le stesse cose pure quando si segna e adesso ragazzi occhi apertissimi abbiamo capito che non sappiamo né difendere né il sistema difensivo di FIFA funziona bene ma soprattutto io non sono molto no miracolo di Okoye qui meno male sul tiro potente da limite dell'aria da parte di Okereke e occhio a calcio d'angolo Bruno Fernandes addirittura io me l'ho visto attenzione no ragazzi non ci credo madonna Ranch miracoloso ma occhio che non è finita ti prego FIFA ti prego ti prego ti prego Okoye grande Okoye ma ragazzi c'è ancora tanto da soffrire mi mettono Luca Romero a difendere qui come sono intelligenti Romero di testa giustamente non la piglia Viti però la prende storta grazie anche il portiere in area calcio d'angolo ma la prova da prendere con le mani il portiere ma non ha senso comunque attenzione Shashua Shashua bisogna superare solamente la meta al campo bravissimo no dai qui stavo per calciare russo no ma dai dai ragazzi arbitro è finita sono al centro campo arbitro è finita grazie arbitro finisce qui la partita clamoroso 4 a 3 al Maradona riusciamo alla fine a portare tre punti clamorosi a casa dopo che ci siamo complicati solo noi la vita ma a parte il forcing finale degli azzurri penso che questa vittoria sia più che meritata e comunque ragazzi alla fine è clamoroso che queste partite le risolva sempre Romero sempre lui e ok ragazzi adesso subito in campo contro la Sporting Lisbona un rapido resoconto qui della situazione del girone perché dopo quella bruttissima sconfitta contro l'Edouk Spalato della scorsa puntata siamo sempre nella stessa situazione tutto sommato perché il destino ha voluto che perdesse anche lo Sporting in casa quindi adesso siamo sempre a più tre rispetto ai portoghesi una vittoria per noi vorrebbe dire mettere in una brutta situazione lo Sporting questo sicuramente però vorrebbe dire arrivare a 12 punti anche se una fra rapide e l'Edouk vince andrebbe a 7 punti 7 per arrivare a 12 quanti punti sono? ovviamente 5 punti non ci darebbe la qualificazione in realtà sì perché poi lo Sporting ha detto vabbè ragazzi dobbiamo vincere è molto semplice ragazzi mi sognerebbe puntare a vincere per stare più tranquilli comunque scenderemo in campo con Sommer portiere di Coppa poi Udoji Luque Bavitic Livramento Perrone Saewald Scott Nusa Shashua con la fascia al braccio e Luca Romero faccio subito Antonio Nusa che si destreggia e va dentro verso Shashua Shashua che non lo pareva come al solito al piedino particolarmente caldo ma adesso arriva la parata di Adan o Adan dipende dall'accento occhio Shashua prova a servire Nusa bravissimo Nusa qui a fare il movimento ad inserirsi lì a spostarsela direttamente sul piede buono per così dire però poi sbaglio completamente la conclusione in porta faccio Saewald qui grandissima parata recuperata Scott poi subito dentro molto bene Samuel Shashua niente Moke non doveva calciarmi di prima mi ha calciato di prima intenzione e purtroppo questa cosa ti frega perché io ho calcolato in base ad uno stop da parte di Shashua perché appunto davo per scontato che facesse minimo uno stop e poi calciasse comunque vabbè non fa niente e oggi possiamo ancora avanzare Antonio Nusa Antonio Nusa siamo in aria dei ragazzi che stiamo giocando molto bene palla dietro Luca Romero che è stato bravissimo qui a mettersi proprio al centro dell'area ma il portiere ancora attento dei ragazzi che ci manca solamente il gol Saewald in mezzo verso Luca e va aveva staccato benissimo ancora Dan che fa il miracolo bravo Wittik grandissima copertura Wittik è veramente forte comunque attenzione Shashua ne un po' se si inventa qualcosa l'appoggio per Luca che ce l'ha sul destro pensavo fosse Scott vi dico la verità però è stato comunque bravo a calciare il 5 di pede debole si nota qui Saewald decide di regalare il pallone ok occhio però adesso lo Sporting che prova a rendersi pericoloso anche lui prima conclusione effettivamente pericolosa verso la nostra porta Sommer meno male che si fa trovare pronto e attento qui attenzione ancora e stavolta Sommer invece fa la paper benissimo nonostante un dominio incredibile siamo sotto però sinceramente qua ci terrei a dare un'occhiava perché calcio d'angolo mezzo l'impallo vado io vai tu poi ragazzi Sommer che sembra che calcoli male il rimbalzo vabbè è un bug dai su ragazzi perché non è possibile che il portiere non pigli una palla del genere e purtroppo sto gol fa veramente veramente male perché stavamo giocando solo noi tante chance per passare in vantaggio vari miracoli del portiere ma alla fine passare in vantaggio è proprio la squadra portoghese che occhio adesso avrà l'inerzia dalla sua e quindi sarà un secondo tempo secondo me bello tosto comunque dai non demoralizziamoci troppo perché 45 minuti sono più che sufficienti per ribaltare totalmente questa partita ecco ragazzi Scott prova l'appoggio è ottimo verso Romero che non può sbagliare invece becca la traversa che si è mangiato qui Lucchino questo qui non me lo dovevi sbagliare raga prova a fare 4 sostituzioni 4 e mezzo in un certo senso perché allora metto Farias per Chachua Fatavis al posto di Luca Romero poi in campo Guler al posto di Scott però in realtà entra a posto di Nusa perché Scott lo metto a fare l'ala visto che Charabela troppo stanco quindi diciamo preferisco fare così e in più dentro anche Cap Miners al posto di Perrone piccola cosa la fascia non si può cambiare a partita in corso certo FIFA molto realistico e occhio Guler può andare Guler riesce a servire benissimo Fatavis con grandissima palla Fatavis deve appoggiarla troppo corta si salva il portiere ma c'è ancora Arda Guler la palla respinta Fatavu ti prego spiegatemi perché non ha calciato bene ragazzi spiegatemi perché non ha calciato bene ancora Guler che avanza Guler l'appoggio Fatavu Fatavu tira Fatavu niente ragazzi non si può impossibile dai ragazzi almeno il pareggio Guler dentro aspettato troppo ma la palla arriva comunque a Facundo Farias che trova il gol dell'1-1 vai avanti ti prego sia un gol importante ma io sinceramente vorrei volevo vincere ma ormai non c'è più tempo è un punto che ci fa restare nella stessa situazione ma avvicina una fra Spartak scusate fra Rapid Vienna e ovvio no che peccato qui si è passata questa palla verso Guler comunque questo punto avvicina sicuramente una fra Iduk Rapid Vienna comunque ragazzi l'importante era non perdere bravo Farias era una partita da vincere perché ragazzi lo Sporting ha fatto il gol basta poi per il resto abbiamo dominato al di poco infatti ragazzi cioè spiegatemi come è possibile quando abbiamo vinto questa partita alla fine la squadra che ne guadagna di più è Rapid Vienna che balza a 7 punti a pari mezzo se non sbaglio proprio con lo Sporting Lisbona noi siamo a 10 adesso comunque siamo in un'ottima posizione rispetto alle altre perché ragazzi se diamo un'occhiata esattamente vediamo che noi siamo a 10 punti ok l'ultima giornata è proprio contro il Rapid Vienna quindi attenzione allora ragazzi in caso di vittoria nostra siamo certi al 100% di essere pure i primi ma anche in realtà in caso di pareggio perché se fai un pareggio arrivi a 11 punti se Rapid Vienna vince cioè se lo Sporting vince perché ovviamente ci sarà già una Rapid Vienna Sporting ad X Palato quindi ragazzi se lo Sporting vince il controllo di Spalato andrebbe a 10 punti noi con un pareggio siamo comunque a 11 e passiamo come primi perché ovviamente è molto importante passare da primi del girone quindi ragazzi ancora tutto particolare mi aspettavo un girone più facile visto soprattutto le prime tre partite poi improvvisamente è cambiato il gioco comunque l'ultima giornata contro il Rapid Vienna che sarà sicuramente una battaglia comunque mentre si soffre contro squadre Rapid Vienna e Dux Spalato in campionato siamo primi in solitaria dopo 13 giornate con 32 punti con solamente una sconfitta e due pareggi quindi questo vi fa capire di quanto si è rotto questo gioco comunque ragazzi sicuramente stiamo andando bene in campionato grandissimo rullino di marcia però adesso la sfida sarà continuare con questi ritmi soprattutto dipende anche le altre che combineranno ok ragazzi adesso è il momento di affrontare appunto Lella Sverona vediamo un po' che partita sarà mi aspetto ormai qualsiasi cosa allora ragazzi la formazione è praticamente la migliore possibile ci sono solamente due cambi ovvero Viti che gioca al posto di Luque Ba troppo stanco poi per il resto ci sono tutti anche al centro campo è il tridente titolare invece in attacco quello troppo stanco è Ranusa al suo posto ovviamente in campo il faraone Sharawi che quando è in campo preferisco sempre dargli la fascia da capitano visto che secondo me è la cosa più carina più sensata e occhio subito che possiamo avanzare il farone Sharawi deve andare subito dentro verso Arda Guller pronti via neanche il tempo di iniziare arriva già il gol del vantaggio segna Arda Guller però ragazzi attenzione perché la partita con Napoli ci ha insegnato che finché l'arbitro non fischia al 95esimo la partita è sempre è sempre lunghissima è sempre apertissima comunque 1-0 è sicuramente ottimo modo per iniziare occhio possiamo ancora provare ad avanzare Fadavista Q è in area l'appoggio ancora dietro verso Arda Guller che a sua volta appoggia per Coppo Miners che finalmente trova il suo primo gol con la nostra maglia un sinistro veramente poderoso siamo addirittura sul 2-0 bene così ragazzi stiamo facendo un'ottima partita adesso la sfida sarà a mantenere questo ritmo per tutto il tempo comunque qui grandissimo Mancino con il portiere che sicuramente sbaglia ragazzi è in ritardo e poi pure Goffo occhio possiamo ancora avanzare Fadavista Q Fadavista Q vai direttamente tu in porta e arriva il gol del 3-0 bene così ragazzi segna Fadavista Q che appunto trova la terza realizzazione della giornata il nostro numero 10 che sicuramente ragazzi è un giocatore straordinario praticamente fra i giocatori che ancora possono crescere all'overall più alto di tutti e sicuramente sarà il giocatore con l'overall più alto qui diciamo ci metto la mano sul fuoco perché sono convinto che per fine stagione sarà minimo un 85-86 occhio ragazzi possiamo ancora avanzare addirittura con Viti che riesce a seguire fa Kundo Farias che ritarda forse troppo il tiro alla fine riesce a passare la Guler ma qui sicuramente si poteva far meglio occhio il ciolito Simeone qui palla fuori primo tiro della partita per Lellas occhio qui palla dentro per Simeone pensavo fosse fuori gioco e qui clamorosa chance per Tamese di rientrare in partita occhio ragazzi esattamente la stessa cosa successa contro il Napoli bisogna andare all'intervallo senza subire gol forza occhio pallino avanti c'è Facundo Farias il destro di Farias la palla che viene parata da portiere poi carambola addosso al nostro attaccante e alla fine si salva Lellas e ok ragazzi alla fine riusciamo a concludere il primo tempo senza subire gol 3-0 all'intervallo per noi ottima notizia visto che contro il Napoli nella scorsa partita è successo completamente l'opposto quindi diciamo che teoricamente potrebbe essere una partita leggermente meno ansiogena e occhio però subito il Sharawi che prova il kickoff attenzione sul primo palo il Sharawi prova a sorprendere il portiere che però è attento raga occhio che c'è un calcio di punizione abbastanza interessante per noi c'è Fatavi Sagu che potrebbe provarci tante volte becchiamo la magia da calcio piazzato il Mancino che non era male attenzione Okoy è qui bravissimo addirittura a bloccarla in due tempi su Braganza che è un giocatore che noi conosciamo molto bene avendolo utilizzato l'anno scorso occhio Kuler palla da quest'altra parte per il farone Sharawi ancora Sharawi che va dentro da Kuler per la doppietta personale Arda Kuler Fatavi Sagu ha provato a non prendersi questo calcio d'angolo in tutti i modi ma alla fine la palla è uscita e quindi sarà calcio d'angolo ma prima ragazzi proviamo a fare delle sostituzioni metterei allora Rensh qui farei entrare anche Mataso al posto di Saivald poi 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 potrei mettere solamente Shashua e farei riposare Sharawi con lo vedo più stanco mettendo tranquillamente Romero a sinistra vabbè sono 5-5 di pede debole quindi ragazzi non facciamoci il problema di destra-sinistra occhio ragazzi Luca Romero buona la parola amata a cercare Shashua che può avanzare attenzione Shashua vedi tutti gli inserimenti Mataso no qui Mataso che brutto tiro col sinistro col corpo messo male qui poteva fare decisamente di più occhio Shashua prova a servire ancora Fatavistagu che prova la giocata è passata un carro armato attenzione c'è addirittura quello a incapire ragazzi ma la palla per Luca Romero che ci faceva lì in capie che ci fa qui in capie e occhio possiamo avanzare Fatavistagu ragazzi l'ultimo affondo l'ultima gioia Shashua appena messo in campo Lazza verso Orda Guler palla deviata ma alla fine rimane lì e Orda Guler riesce a trovare una meritata doppietta 4-0 partita giocata veramente a senso unico siamo stati veramente superiori quest'oggi e addirittura non abbiamo subito neanche gol ed ecco qui che arriva subito pure il fischio finale bene ragazzi 4-0 netta vittoria contro una squadra che era da battere eravamo praticamente con la prima squadra in campo quindi era il tipo di partita che speravo non mi aspettavo ma speravo e fortunatamente è andato tutto liscio quest'oggi ogni tanto ragazzi dai non può essere un patemo ogni partita e comunque ragazzi a questo punto penso di poter dire che se FIFA non ci mette lo zampino fra le ruote si può tranquillamente puntare anche al primo posto nel senso possiamo provare a lottare per lo scudetto non mi aspetto di vincere con semplicità quello magari più l'anno prossimo però sicuramente proverei a lottare e vedere un po' che succede perché in questi casi può essere pure che FIFA ti agevoli con qualche risultato e ok ragazzi direi che per oggi il nostro l'abbiamo fatto concludiamo in classifica dopo questa partita nella stessa situazione sempre primi adesso c'è la Roma a primo posto perché ha già giocato la quindicesima giornata noi dobbiamo ancora rispondere contro il Torino appunto e soprattutto abbiamo pure l'Inter che è a meno 3 a pari punti con la Juventus quindi raga ecco questi primi quattro posti secondo me fra queste quattro uscirà il nuovo campione d'Italia e noi sicuramente siamo in vizza pure noi io mi ero prefissato inizio campionato i primi quattro posti raggiungere la Champions e però ovviamente raggiungere la Champions potrebbe già voler dire lottare per il campionato però siamo in grado di lottare anche per il campionato come detto prima dipenderà molto anche dalle altre squadre perché se ci saranno squadre che voleranno le vinceranno tutte difficilmente riusciremo a tenere il passo perché sicuramente qualche altro passo farso lo faremo durante la stagione comunque ragazzi sicuramente sognare non costa nulla quello che dovevamo fare oggi l'abbiamo fatto io vi do appuntamento alla prossima puntata dove vedremo due partite più che decisive perché abbiamo l'ultima giornata di Europa League che effettivamente è fondamentale vincere questa partita per evitare qualsiasi rischio appunto secondo posto addirittura terzo posto retrocedere in conference quindi ragazzi direi di puntare tutto su questa sfida contro i Rapid ma poi ragazzi attenzione perché abbiamo la partita anche con la Roma che è appunto attualmente prima quindi sicuramente scontro più che diretto ok direi che mi sono dilungato anche troppo meglio fermarsi qua per oggi come è stato di lasciare un mi piace iscrivervi al canale e a seguirmi sulla pagina Instagram a supportare il canale tramite una donazione noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti